Il Consiglio regionale del Piemonte e Primo in Italia realizza un TG nella lingua dei segni destinato alla fruizione dei non udenti. Curata in collaborazione con l'ENS, ente nazionale sordi del Piemonte, tutte le settimane viene trasmessa sulla social tv del Consiglio regionale l'edizione tradotta nella lingua dei segni del settimanale televisivo. Fruibile sul sito istituzionale www.crpiemonte.tv viene anche distribuita alle emittenti locali piemontesi.